Ed eccoci qui, ciao a tutti caciotti, benvenuti in questo terzo episodio per oggi in cui noi andremo a creare un metodo per fare un po' di energia L'electrolyzer non funzionava perchè deve avere il minimo 70% Allora Allora Prima cosa ho rubato avverente l'energia Perchè per vendicarmi del fatto che lui mi ha rubato tipo 5 milioni di energia, un milione di energia o questo del genere Vabbè si è già riempito, che fappone Lui è solar panel, ma quelli tipi di solar panel c'ha? Quelli normali? E si è già riempito? Si, solar panel è normali Se io faccio così Guarda, guarda che si carica anche veloce Ok basta Ho dovuto drenare dall'app pack perchè se no proprio zero Zero, non avevo energia Perchè stando liquidato Consumò un casino E infatti ora le ho spenti i macchinari Se no, vaffangala Ok Quindi ragazzi ho deciso Che ora C'è un modo per drenarle queste in qualche modo? No, molto male Ehm Ho deciso di prendere un po' di tin Ci facciamo 16 di queste Ci facciamo dei geothermal generator al posto del solar panel Geothermal generator quindi questi li togliamo Il vetro lo teniamo Che era tipo così Refane ed iron E queste Refane ed iron Refane ed iron No, 32 dovrebbero abbassare Hai voglia E ho 8 geothermal generator Che imposteremo di qua Quindi facciamo un piccola cosa di questo tipo No, vabbè non hai capito Io non ci voglio acqua qui Proprio Siamo in una situazione proprio sballata di brutto Acqua zero Ce ne deve essere Così ti sembra più saggio? No, però dettagli Ok Probabilmente c'è un blocco bloccoso Fappone 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 Fammi risalire Ancora Ah, forse è qui Ehm Go Eccolo Eccolo qui Perfetto Perfetto Quindi Apriamo una zonetta Qui Magari così Magari così Magari anche con qualche altro tipo di blocco Tipo della terra Mamma mia è un casino Fare le case sott'acqua Poi è bello che io Le faccio sempre So che fa cagare fare le case sott'acqua Ma le faccio sempre Sono sottiale Io posso Allora, 3, 6, 7 Allora, se noi piazziamo questi Così E' comodo? No Decisamente Per niente Quindi prendiamo la nostra Lossless Fapp Oh, per l'esame volta Non mi aggiungete su Skype Tanto non vi accetto E' in Lossless Vero Si Oddio Quasi è finita l'energia Potremmo farla Tipo Con Facciamo questa alta 3 Intanto Oh, fa più Dai E mi manca un blocco qui Ora dovremmo essere a posto Quindi Sono tipo 1, 2, 3 E riesco a fare 9 Quindi posso farla anche così E fare venire per terra Ma come lo voglio fare? Ora sto riempiendo l'Atenistar Così Perché ho Voglia E non ci posso credere Non l'ho ancora riempita Se faccio così Perché ci sono 10 punti in più Così liberi? Così Per niente Molto bene Molto bene Zombi Odio di zombi Per il caso è notte Let's sleep Però First I wanna hide the fucking IP Because I hate the fucking IP I fucking hate it Allora Facciamo così Quindi Zombi Eccolo lì Vedi Nell'acqua anche Ha You die Non è che qua si scende verso Chi è? Questo fappone Che imblocca perfino l'energia Uh che bello No Quindi se io Teoricamente faccio Se io avessi fatto così Eccolo Toglierò Eccolo Così Allora io voglio piazzare Questi In modo da potergli mettere I secchi con l'acqua Giusto O non giusto Diciamo giusto Però prima Devo craftarmi L'amuleto Eh come si chiama Evertide amulet No È l'altro Lava Vabbè Vediamo Usage Usage Volcanite amulet Sono tre dark matter E lava bucket 832 C'è qualcuno che sta vicino 832 832 832 832 No Niente in particolare Forse forse Prendiamo uno di questi Facciamo così Proviamo Sì Prendiamo 3456 Perfetto Questo lo bruciamo Che non ci interessa Prendiamo uno Due Tre dark matter Bruciamo questi Che non ci interessano E anche queste L'affangala I don't care Quindi ora possiamo fare Uno Due Tre Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Prendiamo Volcanite amulet Questi anellini Questi cosetti Voglio dire Li bruciamo Che non ci interessano Manco Per niente E dunque Noi abbiamo Il nostro Bellissimo Fapposissimo Cosetto Della serie Io se faccio Così Ho la lava È È il famosissimo Amuleto Che mi ha mezzo Rovinata la cosa Della serie Se io faccio Con R Con R Lancio Una pallina di lava Just to tell Ora mi sembra anche Un deployer Cos'altro Però Abbastanza piccolo Come spazio Per lavorare Bisogna ammettere Le certe cose Ah Fa più Ora Se io metto qua La lava Oppure la metto Qui Qui metto la lava No Li metto il deployer Mamma mia Tutta sta acqua Io la odio E vado a fare Le case sott'acqua Infatti Questo mi differenzia Molto Fa più Mi servirà anche Un repeater Tutte quelle robe lì Qui ci va Un deployer Qui ci va Un deployer E qui Un altro deployer If I'm thinking Incorrectly Vediamo Ma perché butto sempre qualcosa per terra Un bug Fapposo Che se premo la R Me le da in mano Ste cose Io non le voglio in mano Quindi le Usiamo Per ora qui Deployer Ok Depppppppppppppppppp Deployer Deployer Deppppppppppppppp 348 64 348 un pezzo di bronzo this should do the trick aspetta, almeno non ho mai craftato un pistone in sta serie abbiamo questo, abbiamo questo cosa ci serve? vado, ci serve un pezzo di ferro due di questi ok, abbiamo tutto allora è uno di questi uno di questi, a scuola stiamo guardando Braveheart, no? tanto per far capire a che livello culturale noi lavoriamo perché infatti ho pure sbagliato a fare il fapposissimo coso e ora dunque abbiamo un pistone prendiamoci due stacchini di pistoncini che metteremo nella cesta delle cose inutili anche se non lo sono e prendiamo due poi prendiamo due cesta che non ho ma che posso craftare due redstone ce le ho già perfetto direi sono due due no sono due un due così 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 sì e abbiamo i deployer ora ci servirà una mini cleanstar mini mini no, non voglio spendere un milione questa va già più che bene no, magari quella dopo di questa perfetto perfetto la craftiamo come on beach please ok vai la riempiamo 100 milioni vabbè sarà abbastanza per ora basta fare così se non sbaglio a posto riempavamola ok questa va andrà nel deployer ora quello che voglio fare io fare in modo che ogni tot essendo questo qui e questo qui ha un impulso che andiamo a creare subito mi si crea la lava e qui ci andrebbe ci andrebbe un altro deployer che ho posizionato male quindi prendiamo questo altro deployer facciamo così ah mi ha detto lava acqua acqua ti odio quindi se qui ci va il fap qui ci va il fafap qui ci andanno i secchi che io ho stupidamente buttato il fino il temin ma che mi sarebbero potuti servire ora come posso fare in modo rapido e indolore a prenderli senza fare troppe fappate non posso dovrei crearmene uno con il tin perché è molto più facile dovrei fare qualcosa di questo tipo ne avevo già uno perfetto 3 4 5 e 6 6 di questi forse deve crearmi una una easy way per andare dall'altra parte cosa che dovrei fare con con dove sono l'ho visti l'ho visti no l'ho visti l'avevo visti questi no non voglio i panel però voglio vabbè prendiamo con i panel voglio vedere se riesco a fare una cosa fapposa facciamo così facciamo così e questi li buttiamo perché non li voglio io visto so fare anche le rime non è vero non è una rima spostiamo tutti i secchi qua dentro ci vorrà un timer ci vorrà un timer che attiva questo ora come faccio a levarlo senza troppi problemi così fappone sono un fappone non quanto avrete parliamoci chiaro però questo e questo ora bisognerà fare per l'appunto il timer e mo son cacchi vediamo quanto sto registrando ok per salvare il tempo sto facendo piccolissimi tagli ma che alla fine mi salveranno un minuto intanto c'è ci andrà su skype il fappone detto anche il fappone allora vediamo un timer ci vuole stonewaffer il buffer ok wire molto semplice me ne servirà uno no me ne serviranno tre poi a node fa più 1 2 3 oh è soli per i rumori di skype ma zappa sto progettando la mia vendetta tranqui a dopo perfetto se hai detto che te ne devi andare ok ok eh 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 ah alleluia sei andato no scherzo non è vero beh forse si no forse no si eh 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 prendiamo un po' di questa prendiamo un po' di questa facciamo un po' così girati intorno lo smetto lo smetto ah facciamo uno così e l'altro era così pointer quindi ora abbiamo un pointer un catodo un wire un anode e due wafer si abbiamo i wafer ora detto che noi potremmo mettere il coso tipo qui che va all'infinito perchè giustamente io sono un fappone con intervallo di circa un secondo all'inizio o anche meno no un secondo va bene quindi noi abbiamo la redstone che va tipo qui vediamo se funge si funge e poi lo mettiamo con la redstone che va anche lì quindi bisognerebbe mettere una qualche tipo di separazione tipo quella che può derivare da una cosa di questo tipo questo non ci serve non ci serve c'ho tante cose c'ho tante di quelle cose che non mi servono che vabbè faccio gara avverente è vero non si possono usare queste cose fappone allora devo usare per forza i cavetti fighi i fionovotemine tipo questi allora un due tre mi bastano qui abbiamo detto che ci andranno i deploy allora mi serve solo mi serve del brass che in realtà io ho quindi sono un fappone allora sai che ti dico posiamo cose che non ci servono perchè penso vi dia fastidio vedere cose che non servono nell'inventario perchè a me da un fastidio boia quindi figuriamoci a voi posiamo tutte le cose che non ci servono tipo questo e questo e questo e quello teniamo giusto per sport allora facciamoci un paio di questi 16 bastano quindi questo bisogno penso durerà più di 20 minuti facciamo così sì lo so avrei potuto usare i fapponi e per fapponi intendo i fapponi allora prendiamo un diamante penso possa bastare un diamante com'era oddio non mi ricordo ah ok ora mi ricordo silver era un due tre un due tre oddio io non sono sicuro ma mi pare se è giusto sì questo è solo per impostare quindi mi bastano voglio uno due tre e vogliamo anche che scenda così uno due tre quindi abbiamo questi otto che vanno tipo uno due no non lo voglio così terra dove sei ti voglio bene ma tu non puoi stare lì per comodità penso sia meglio fare andare i cavi e per cavi intendo questi lì un momento ma le accettano i secchi sì sì le accettano i secchi perfetto ah giusto sono otto e qui cosa ci metto vabbè per vedere le cose che passano dai più o meno quindi teoricamente vabbè già fungere il filtro stupido io stupido io mi manca il dannato filtro 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 mi serve uno di queste cose colorate mannaggia ma ometto dread mi influenza e mi manca carboni e questo video sta andando da più di 20 minuti lo so sono un fappone ma io come faccio a fare questo in modo fapposo della serie uno due tre uno due tre sto pensando se è necessario farli tutti sì purtroppo sì mi servono altri capi intanto prendiamo questo prendiamo un pistone dell'oro che non ho che sul serio no qui siamo messi male proprio bisogna andare a minare la vecchia maniera miniera ma ni ah le prendiamo uno stacchino d'oro e la fangala stacchino d'oro stacchino di uno di questi teniamoci due di questi allora filtro il resto è cobblestone quindi cosa che possiamo fare è uno e due e tre qua cinque sei sette otto e abbiamo il filtro quindi il filtro va così no va al contrario dato che io non ho un calciavite e non ho voglia di farlo qui dovete arrangiare qui dovete assorbire me che cerco ti farlo puntare nella giusta direzione scusa se faccio così vedi che così esce bene vabbè allora ti devo affangare facciamo questa miniera mi servirebbero altri cavi però dove li ho messi qui quattro dovrebbero bastare che devono fare così ok ora la parte bella che devono anche salire quindi mi serviranno altri cavi di questo tipo ottio che fappone che sono fammi salire tu durido fappone diciamo così 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 forse avrei fatto meglio farli tutti di redstone giusto un'idea giusto giusto un'idea perché va così sì giusto non gli ho detto cosa prendere no io voglio quello là di lava ok ok a casa mia dovrebbe funzionare facciamo così in modo che possa passare se ci vorrebbe un repeater qui sai che ti ricordo andiamo a prenderlo anzi mi sa che ce l'ho già qui mi sa che mi sa che se l'ho di fare mi sa che mi sa che mi sa che si Dai, dovresti prenderlo Quello grande va così Dai, non voglio farmi un calciavite Come se non avesse abbastanza problemi Prendiamo uno stichetto E' un pezzo di ferro O' era silver, non mi ricordo Penso ferro Da quanto in qua Deployer e filtro non funzionano Sul serio, ed è Lascio stare Cos'è, ora ha funzionato? Perché ho sentito un rumore fapposo Oh, let me out Let me out, you bitch Vabbè, a questo punto questi non mi ci servono E posso risparmiare Ah, cosa ho fatto Me fappone, me fappone Me fappone Posso fare Così Posso fare così Ma non così Perché non mi piace E allora facciamo così Vediamo così come funziona Sì Alleluia Alleluia Ma ci vuole anche per caso Oddio Si è mangiato al momento Ah, è vero Mi serve anche un retriever Io so troppo fappone Tanto che non faccio le cose Beh, lo craft al momento Su, su, pa, 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 pe, pe, pe Ast, eh, stavo cercando un enderman ed esproso un creeper Ehm, mamma mia Se sarà veramente un episodio da mezz'ora Ci vorrà tre anni per enderizzarlo Stavo cercando di fare tutti i video di 30 minuti Mi sono creato un anatomy Molto semplice Stick e silver Così posso slenarlo facilmente Ora sto cercando un mob Per sfruttare il metodo Fappenstein Il metodo di Fappenstein Muuu Loro non avevano delle caprette Che ti fanno ciao Un pollo Tu sei la mia vittima Ok, penso non si possono trasformare In qualcosa di cattivo Qui non c'è qualcuno di cattivo Un creeper, qualcosa Profondo Vivi, vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Paul No, non voglio raccogliere tutta sta roba. Sto solo aspettando che sponi qualcuno. Anzi, usiamo il nostro tabletteamunet che non ho. E buttiamo a terra le cose che non mi servono. E riempiamo tutto col vetro così da non poter raccogliere niente. Cos'altro? Questo non mi serve, questo non mi serve. Dai. Possibile che non sponi nessuno? Beh, deve spawnare qualcuno. Per il codice di Minecraft che deve spawnare qualcuno. Fa spawni dei... Sì? Si? Si zirano la zombie? No, qua non è. Ma andiamo, ci sono i 30 blocchi necessari per far spawnare qualcuno. Che cacchio? Ah, qui forse dove hanno scavato loro. Però è pieno di torce. Beh, ho sentito un ragno. Dai, però non mi vuoi fare questo. Eccolo! Vieni qua tu. Oh, stupido zombie. Dai, non mi vuoi fare la via per salire. Eccolo. Oh, stupido. Oh, stupido. Eccolo. Oddio! Non la perla nera, ma su via. Non la perla nera, ma su via. Qualche tipo di perla me la dovrai pur dare. Questi fapponi. Senti. Sento qualche scheletro. Ti prego. Qui? Uno desidera di allontanare e riavvicinare il generale di spawn. Questo è ciò che dice il codice di Minecraft. E io, il bravo codaro di Minecraft. Ah, l'avevo preso. Non buono. Oh, dai! Oh! Il fappone. Oddio! Non vorrei morire. Scappa, 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 scappa. Sì! Morite tutti! Vaffanculo. Premo C. E voi vi dovete allontanare. Ora. Sì. Io non vi amo più. Andate via. Vi odio. Torniamo a casa nostra. Ah, mamma mia. È anche tardi di iniziare a renderizzare. Non so perché, ma mi ridugo sempre a registrare di sera. Fa più. Colpa di Darkin. È giusto per sicurezza. E anche di abbassare questa cosa, no? Perché potrebbe essere altamente pericoloso. Ok. Questo lo mettiamo qui. Andiamo subito a fare il nostro Retriever. Più veloce della luce. Tu, non puoi dirmi. Oh, orco, magari mi da anche... Saffangala. Ok. Ok. Ahia. Just for curiosity. Ha continuato ad andare sto coso, infatti. Però non può continuare ad andare sul serio. Perché manca... Il come si chiama... Il Retriever. Ah, mi sono rovinato la vita. Mi toccherà metterci... Nel Deployer. Ma anche questo e questo. Ora. Abbiamo questi. Facciamoli imparare sti cacchio di cosi. Prendiamo la nostra danatissima cosa. Ah, uno stack. Via. Ah, ma io l'avevo già imparate. Oddio, ho fatto tutto sto casino per niente. Oddio, non ci posso credere. Basta, basta, basta. Basta, basta, basta. Due brass. Facciamo il momento. Dai. Facciamo l'episodio lungo. Facciamolo in tutto. Qua abbiamo della cobblestone. Mettiamola qui. Giusto un po' ce la teniamo. Per le esperienze future. Vediamo le solite cose che non ci servono. Mi dice cosa me ne faccio di queste cose. Dammi il brass. Sappone. E ci vuole un filter. Non ci posso credere. Quindi ci serviranno tipo. Due ori. Quattro di questi. Uno di questi. Veloce prima che mi finisce la carica. Quattro di questi. Cos'altro? Un pistone. E il resto di cobblestone. Ho detto un pistone. Ho detto. Dov'è il pistone? Dove stanno i pistoni? Perché non ho presi due? Non si sa. Ma so che sto per innevosirmi. Questo va qui. Questo va qui. Questo va qui. Ora. Come si fa sto coso? Ah. Mi serve anche due di ferro e uno blu. Perfetto. Uno blu. Uno blu. E due di ferro. Due di ferro. Uno blu. Due così. Cos'è? No. Cosa mi manca? Oh. La leder. La leder so di averla. Ce l'ho. Ce l'ho. Io ce la devo avere vaffangata. Non ce l'ho. Ok. Andiamo da uno di quei polli lì. Che deve essere ancora qui. Uh. Ciao pecora. Ti amo. Si che ti amo. Mettiamo le cose che non ci servono. Ottiva. Quanto sto andando? Da tipo 40 minuti? Si. 40 minuti buoni. Lo stack va benissimo. Ora. Facciamo sto fottutissimo coso. Ti sembra? Minchia. Paura. Paura. Panico. 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 Paura. Oh. Com'è? Paura. Bene. Ho anche tutto ciò che mi serve. Quindi io devo fare tipo un retriever che va qui. Eh. Ma son cazzo. No. Fan culo me stesso. Aria. 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 Mamma mia ho sindicappato. Un. Un. Tre. Ah. Ci posso fare bene. Ok. Così debba andar bene. Mi manca solamente uno di questi che era caduto. No. Fa un culo. Me stesso. Per l'ennesima volta. Allora. Mi serve. Qui uno di quei cavetti che non ho. Oh. My god. My god. My god. Cioè. Posso ricavare qualcosa. Tipo. No. Bene. Andiamoci. Andiamo per un episodio da un'ora dunque. Qual'è il problema? Qual'è il problema? Sono io che devo passare quattro ore sveglio aspettando che si carichi il video. Vero? Si. Sono io. Proprio io. Presente. Noi vediamo un coso così. Noi vediamo questo. Questo come lo vediamo? Lo vogliamo che si possa girare. Così. E vogliamo che si colleghi. Qui. E vogliamo che prenda i dannatissimi secchi vuoti. Dannatissimi secchi vuoti. E ci vuole anche l'energia. Oh. Perfetto. Vabbè. Possiamo. Attenzione. Potremmo farla arrivare tranquillamente. Attenzione. Attenzione. Prendiamo la nostra bag. Voliamo. Se se ne c'è anche la Juventus. No. Tanto per dire. Vediamo tutti e sette. Vediamo se riusciamo a fare un trick unico. Attenzione. Non ci posso credere. Oh. Non ci posso credere. Aspetta. Fammi assistire questo giusto per l'evenienza. Oh. Non ci posso credere. Potremmo essere a posto. Forse. Si. Oddio. Potrebbe fungere. Ora bisognerebbe solo collegarlo. No. Perché va vuoto. Non deve andare vuoto. No. Deve andare solo pieno. Ah. Non c'è più il filtro. Perfetto. Stoppiamo un attimo tutto. Dammi un secchio qualsiasi. Riempiamolo di lava. E lo mettiamo. No. Non qui. Ma qui. Attiviamo. E ora dovrebbe avere un senso logico. Perfetto. Si spera. E gli altri? Non li richiama? Perché non li richiama gli altri? No. Perché non li richiama? Dovrebbe essere alla portata? Vediamo. Vediamo. È da aggiungere secchi. Si. Proviamo ad aggiungerli noi manualmente. Perfetto. Quindi prendiamo tutti e tre. Li mettiamo nel deployer qui. Vediamo questi cosa fanno. Appena si riempiranno questi passeranno i prossimi. Si spera. Vediamo. Questo va bene. Vediamo la batbox. Si si va tutto bene. Vabbè. Noi vediamo la prossima puntata. Per questo episodio che dovrebbe durare 20 minuti invece è durato un'ora. È tutto. Ciao a tutti. A tutti. Ciao a tutti.